L'IPLA quest'anno compie 40 anni, sono stati 40 anni di ricerca applicata sul territorio per conto della regione innanzitutto ma che spesso ha riguardato il territorio della città metropolitana, della ex provincia di Torino. L'IPLA ha fatto la carta delle connessioni ecologiche per il piano paesaggistico regionale, si è occupata della gestione dei siti della rete Natura 2000, ovviamente molti di questi all'interno dell'area della città metropolitana. Poi si è occupata dei boschi ripari, della gestione delle sponde, di molti importanti corsi d'acqua della città metropolitana, parlo della Dora Baltea che è al confine della Dora Riparia, della Stura di Lanzo. E attualmente abbiamo in corso uno studio che riguarda il piano naturalistico del Parco Naturale del Monte San Giorgio e dei Treidenti del Freidur. Queste sono attività che noi facciamo nell'ambito del mantenimento, della conservazione, della biodiversità e delle risorse naturali che è uno dei pilastri dell'attività del nostro istituto. Grazie. Grazie. Grazie.